Ritorniamo in studio con la nostra rassegna stampa, ci dedichiamo adesso a Roma con le notizie su romatoday.it, parliamo del caso Campo Rom, il bando è una proroga camuffata per il camping river, sarà aperto ancora fino al 30 giugno, il comune cerca da mesi un altro campo dove spostare le famiglie a luglio scorso pubblica un bando di gara per il reperimento di un'area attrezzata nel municipio 15, lo sospende e poi lo riconferma, il 31 marzo apre le buste, l'unica offerta pervenuta è dello stesso soggetto, Isola Verde Onlus che ha gestito la struttura pronta a chiudere, un cortocircuito che per l'associazione 21 luglio scanserebbe ogni dubbio, i rom resteranno nel vecchio insediamento grazie a un bando redatto in modo da escludere altri potenziali concorrenti, nessun nuovo campo semplicemente un escamotage per prorogare la struttura aggirando i precetti di ANAC, le procedure negoziate senza bando che hanno tenuto in piedi per anni il camping non sono più permesse, da qui il confezionamento di un appalto che di fatto consente a Isola Verde di ottemperare tutte le richieste dei capitolati, riproponendo il medesimo servizio. Questa è la tesi dell'associazione che attacca il comune di Roma anziché provvedere a un ventaglio di soluzioni abitative alternative per le 109 famiglie rom, come raccomandato dalla strategia nazionale per l'inclusione dei rom, ha optato per il reprimento di una nuova area attrezzata per 15 mesi per un importo complessivo a base di gara di 1.549.484,26 euro, il caso è all'attenzione dell'autority anticorruzione, nell'esposto presentato dalla 21 luglio, il giorno stesso dell'apertura del plico. Vi si segnala come la gara d'appalto sembri essere stata redatta in funzione dell'unico concorrente, da anni affidatario del servizio di gestione del villaggio River, unico soggetto, questo avente i requisiti strutturali, la capacità economica e finanziaria, le competenze tecnico-professionali espressamente richieste dal bando di gara. Poi si sottolineano le somiglianze dei requisiti strutturali, le prestazioni e i servizi richiesti e forniti finora alla struttura di via della tenuta vicirilli e quelli previsti dal recente bando. Nell'esposto si legge in quest'ultimo le restrizioni territoriali, quelle legate alla capacità tecnica, quelle relative alla capacità economica, sono tali che è possibile affermare che al di fuori della cooperativa in oggetto non vi siano altri concorrenti, né nel territorio del quindicesimo municipio, né in quelli limitrofi in possesso né di una struttura rispondente a requisiti strutturali previsti, né aventi le capacità tecniche, economiche e finanziarie richieste dal bando oggetto del presente esposto. Adesso invece parliamo di una perdita d'acqua al Policlinico Gemelli, evacuati i pazienti del reparto pediatria. Questa mattina il Policlinico Universitario Agostino Gemelli dove i degenti dei reparti del decimo e undicesimo piano sono stati portati fuori dalla struttura ospedaliera di Viale della Pinetta Sacchetti in seguito alla rottura di una tubazione della centrale termica posta al dodicesimo piano con conseguente perdita d'acqua. La richiesta di intervento al 115 alle 6.30 di questa mattina, allertati i soccorritori al Gemelli, sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Roma che a scopo precauzionale hanno provveduto ad evacuare i pazienti di sei stanze del reparto di pediatria all'undicesimo piano. Insieme a loro anche sono stati portati fuori i degenti del decimo piano. Adesso parliamo invece della maratona dei vigili. Gli avvisi non sono bastati nel giorno della maratona di Roma che ha visto l'ennesimo trionfo degli atleti africani e un altro successo per Alex Zanardi. A tenere banco è stato un vero e proprio blocco del traffico che ha coinvolto mezza capitale, limitazioni alla viabilità che grazie ai mezzi pubblici e gratuiti per gli atleti sono state ben sopportate dai romani. Non tutti però hanno vissuto una domenica sera ben 220 auto, infatti sono state rimosse perché in divieto o in sosta di intralcio dai quattro gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno operato il tutto nonostante nei giorni passati erano stati diffusi diversi avvisi. Alla cittadinanza oltre 600 gli agenti impegnati lungo i 42 chilometri di percorso che sotto una pioggia pressoché ininterrotta hanno ascoltato gli atleti ed effettuato le necessarie chiusure vigilando sul tracciato, garantendo la sicurezza stradale di tutti, prestando anche soccorso dove necessario. Continuiamo la nostra rassegna stampa, il focus sulla regione Lazio dove 148 mila sono i minori in povertà relativa, l'11% abbandona gli studi, meno di due bambini su dieci possono andare al nido, quasi la metà degli alunni è senza menza a scuola, il tempo pieno non esiste, per metà degli alunni della primaria più di un ragazzo su dieci abbandona gli studi prima del tempo e più della metà non partecipa ad attività culturali e ricreative. Questi sono i dati di Save the Children in occasione del rilancio della campagna Illuminiamo il futuro per il contrasto alla povertà educativa presenta il nuovo rapporto. Quindi parliamo di due minori su dieci nel Lazio per un totale di 148 mila bambini e adolescenti che vivono in condizioni di povertà relativa, una percentuale di poco inferiore alla media nazionale che si attesta al 20,2% mentre la povertà assoluta nel paese riguarda oltre 1,1 milioni di minori ed è quasi triplicata negli ultimi dieci anni. Il numero di ragazzi che abbandonano precocemente gli studi a livello nazionale si è più che dimezzato negli ultimi 23 anni. Tra le regioni italiane il Lazio e Guaglia in positivo la media dei paesi dell'Unione Europea 11% mentre l'Italia nel suo insieme si posiziona al quarto ultimo posto nella classifica dei paesi per early school leavers seguito soltanto da Romania 19%, Spagna e Malta pari con il 20%. Nonostante in Italia la percentuale di ragazzi che non raggiungono le competenze minime in matematica si è scesa di ben 10 punti percentuali passando dal 33% del 2006 al 23% del 2015. Il trend positivo si è arrestato negli ultimi sei anni. Il numero dei ragazzi che nel Lazio non partecipano ad attività culturali e ricreative pari al 55% con un vantaggio rispetto alla media nazionale è stata al 60% migliorata comunque di 5 punti rispetto al 2013 quando era il 65%. Bambini e ragazzi privati spesso anche nel Lazio della possibilità di apprendere e sviluppare i propri talenti, capacità e ispirazioni cui vengono negate opportunità fondamentali per la loro crescita. Quasi più la metà degli alunni abruzzesi, 45%, non usufruisce della mensa scolastica, 48% il dato complessivo italiano, solo il 16% dei bambini può andare al nido, il 52% non trova il tempo pieno quando entra nella scuola primaria e va molto peggio in quella secondaria di primo grado dove è praticamente assente, 93%, 7 punti in più della media nazionale che si ferma all'85%. Adesso ritorniamo su Roma, grillini spaccati nel municipio 13, Ligio e Federici si dimettono da presidenti di commissione, ancora una grana per i pentastellati municipali. Dopo il caso di Camillo il consigliere accusato di incompatibilità perché titolare di un nido convenzionato con il comune di Roma, il caos si sposta nella vicina tredicesima circoscrizione. Consiglieri 5 Stelle, Augusto Digi e Davide Federici hanno lasciato le rispettive presidenze delle commissioni, lavori pubblici e ambiente con una nota protocollata lo scorso giovedì. Rientra in un normale avvicendamento delle cariche, ha spiegato il consigliere Federici, si sta discutendo anche nelle commissioni capitoline di far ruotare i presidenti di commissione. La stessa giustificazione anche per Ligio, ho fatto un passo indietro per permettere agli altri consiglieri di fare questa esperienza, in pratica quella della rotazione dei presidenti che non ha precedenti né uguali negli altri unicipi, ci dobbiamo aspettare quindi che accadrà la stessa cosa per le restanti sei commissioni e risponde, questo non glielo so dire. La presidente Castagnetta, interpellata dal giornale Roma Today, sminuisce i fatti, non è una notizia parlando di normale avvicendamento, ma tra i consiglieri municipali c'è chi scommette racconta di frizioni, con l'aggiunta della minisindaca parlando di comunicazione difficile, con non poche incomprensioni e richieste di atti e documenti rimaste in evase. Dispiace che dimettersi siano i presidenti che stavano lavorando meglio, commenta il consigliere di Fratelli d'Italia Marco Giovagnorio, ma una cosa è certa, nel municipio 13 non è per nulla semplice lavorare in sinergia con la presidente e la giunta. E sull'ipotesi di avvicendamento delle cariche non ce ne ha mai parlato nessuno la dichiarazione, già la prossima settimana si riuniranno le commissioni per votare nuovi presidenti, anche questi pro tempo, almeno stando alla disciplina di rotazione che avrebbe spinto i presidenti a lasciare il posto. E con questo ci salutiamo, ringraziamo per essere stati con noi, vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti con la rassegna stampa. Arrivederci.